Bentornati, quinta tappa del nostro viaggio attraverso gli anni folli di Ennio Morricone, oggi parliamo del 1970. Allora, il 1970 da un certo punto di vista è un anno quasi di riposo, perché considerando quello che era successo nel 1969 e considerando quello che accadrà di lì a pochissimi anni, 15 colonne sono scritte nel corso di un anno, che sono ovviamente più di uno al mese, sono nella media del Morricone di quegli anni, insomma, quasi un anno di tutto riposo, potremmo dire. Scherzi a parte, al netto del fatto che nel 1970 Morricone scrive un numero di colonne sonore leggermente inferiore alla media di quegli anni, resta il fatto che, insomma, sono tutte colonne sonore importanti e in due almeno piazza la zampata. Continua la collaborazione con Bruno Nicolai, di cui abbiamo già parlato diffusamente nelle volte scorse, anche se almeno in una colonne sonora, ma probabilmente anche due, c'è un piccolo giallo che dovremmo affrontare. Bene, partiamo con la nostra carrellata e poi ci soffermeremo su due colonne sonore in particolare. Uccidete il vitello grasso e arrostitelo, regia di Salvatore Samperi, con cui continua la collaborazione. Vedete come l'alto numero di colonne sonore che faceva Morricone si spiega sicuramente con il mercato di tempi, sicuramente con la sua bravura, sicuramente con quello che vogliamo, ma anche al fatto che viene consolidata la collaborazione con tanti registi, per cui ogni volta che un regista fa un nuovo film ovviamente chi chiama è Ennio Morricone e quindi aumentando il range di registi in cui lavora aumenta naturalmente Morricone sonore che scrive. Andiamo avanti, L'Uccello dalle piume di cristallo, che è l'esordio e la regia di Dario Argento. Esattamente come è successo con gli altri registi, questo è il primo film che farà Ennio Morricone con Dario Argento, ne seguiranno diversi altri, soprattutto negli anni immediatamente successivi al 1970. Se vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata su Profondo Rosso, vi lascio il link in descrizione qui sotto, se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook, abbiamo parlato proprio di questa colonne sonora. Metello, regia di Mauro Bolognini, ennesimo registro con cui prosegue la collaborazione. Gottmit Huns, regia di Giuliano Montaldo, altra collaborazione che viene consolidata negli anni. La moglie più bella, regia di Damiano Damiani. Gli avvoltoi hanno fame, con la regia di Don Siegel, con Clint Eastwood e Shirley MacLaine. Ecco, questo è un film abbastanza particolare perché è praticamente la prima volta che Ennio Morricone lavora con una produzione che non sia in alcun modo italiana. Cioè lui aveva lavorato per la maggior parte con produzioni italiane, in alcuni casi erano state delle coproduzioni italiane e di altri paesi. Questa è la prima volta che l'Italia non entra in alcun modo nella produzione. Quindi è una produzione infatti statunitense e messicana e quindi, come dire, in un certo senso è veramente l'esordio internazionale della carriera internazionale di Ennio Morricone. I lupi attaccano in branco con la regia di Phil Carlson. Giochi particolari, Franco indovina, con Marcello Mastroianni, Virna Lisi e un giovanissimo, un 24enne Timothy Dalton, che vediamo in questa foto e che ritroveremo un bel po' di anni dopo, una ventina d'anni dopo circa, come James Bond. Tre nel mille, ancora con la regia di Franco indovina. Città violenta, con la regia di Sergio Sollima. Una parte di questa colonna sonora verrà utilizzata da Quentin Tarantino nel suo film Django Unchanged. Abbiamo già visto la volta scorsa gli influssi musicali e cinematografici dei cinema italiani su Quentin Tarantino, qui ne abbiamo, qualora servisse, un'ennesima dimostrazione. Quando le donne avevano la coda, regia di Pasquale Festa Campanile, con Giuliano Gemma, Senta Berger e un cast di importanti coprimari. È un film che ricordo con molto piacere, che ho visto da ragazzo, che l'ho trovato molto divertente. Sono tanti anni che non la vedo, magari se la vedessi oggi non mi piacerebbe altrettanto, però ricordo che ai tempi mi aveva divertito tantissimo. Su questo film ci soffermiamo un secondo ad ascoltare la colonna sonora. Allora, cosa possiamo dire di questa colonna sonora? A parte che Morricone è sempre geniale non solo nella melodia, non solo nell'arrangiamento, ma nell'utilizzo degli strumenti. In questo caso, come capita spesso nelle produzioni di colonna sonore italiane, riesci a trovare un bellissimo compromesso tra il fare una musica accattivante, ma non una musica che necessiti di organici sterminati. Allora, questa musica si basa su uno schema tipico della musica fin dai tempi del Seicento, cioè l'affermazione, meglio, di una frase musicale e la sua risposta. Per cui si parte con l'affermazione BAM 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 E quindi vedete come con pochi accordi, anche se giocate un po' sulle tonalità lontane di sol maggiore e si bemolle, alla fin fine Morricone riesca a fare un tema incredibilmente gioioso, godibile, perfetto per una commedia e con l'utilizzo anche delle voci di alcuni strumenti particolari come il fagotto e come altri strumenti che hanno la capacità di restituire immediatamente con poche note un determinato senso o di leggerezza o di gioia o di grottesco o di felicità o di dramma in altri casi, però a volte vedete Morricone riesce con poche note soprattutto con l'utilizzo degli strumenti giusti a creare immediatamente la sensazione e l'emozione che ha necessità di ricreare. Proseguiamo con la nostra carrellata, le foto proibite di Una Signora per Bene, regia Luciano Ercoli, in cui c'è un piccolo giallo perché se guardiamo come dire sugli MDB e su molti altri siti riferiti al cinema dicono che la colonna sonora è stata diretta da Bruno Nicolai come tutte le altre, ma se guardiamo la copertina di questo disco dice, orchestrata e diretta da Ennio Morricone. Sono in attesa che qualcuno che ne sa più di me mi sveli l'arcano. Andiamo avanti, La Califfa, regia di Alberto Bevilacqua, non so se sono l'unico che trova non particolarmente riusciti i ritratti di Ugo Tognazzi e Romy Schneider. Vamos Amatar Companeros, con la regia di Sergio Corbucci, altro western ma avete visto che da quanti western faceva fino a due o tre anni fa il humor sta lentamente scemando perché come abbiamo visto già la volta scorsa il genere è ancora popolare ma sta andando lentamente verso una fase di declino. e andiamo verso la colonna sonora più bella e più famosa del 1870 di Ennio Morricone, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. ca un ragazzino al di sopra di ogni sospetto el Anche qui vedete la capacità di Ennio Morricone con pochi suoni, pochi accordi e pochi strumenti di veramente di creare quel mondo meraviglioso di questo film che spazia dal drammatico al grottesco, quasi perfino al comico in certi momenti uno dei film veramente che io amo particolarmente Analizziamo un attimo la struttura musicale di questo brano Siamo in La minore, poi siamo in Si bemolle minore, ancora La minore, La bemolle minore E la stessa melodia è di una semplicità sconvolgente perché non è altro che l'arpeggio fatto su questi accordi, cioè Oltretutto facendo una serie di, tra virgolette, errori che sarebbero errori nell'armonia classica che ovviamente Morricone conosceva perfettamente faceva una serie di quinte parallele ma è veramente insomma di un'efficacia, di una bellezza perché come diceva il grande teorico Dubois il genio impone le regole, non le subisce e quindi Morricone conosceva perfettamente ovviamente le regole dell'armonia tradizionale ma questo non è un brano di musica classica, è una colonna sonora e l'utilizzo di qualunque artificio il compositore ritenga necessario per raggiungere il suo fine espressivo e musicale è assolutamente non solo tollerato ma quasi dovuto Chiudiamo quindi qui il 1970 e attenzione perché ci stiamo avvicinando all'anno più pazzesco della carriera di Ennio Morricone Vi aspetto la prossima volta Vi aspetto la prossima volta